GF VIP 7, Daniele Dal Moro a Oriana sono proprio contento che sei la finalista. Tranquillità ritrovata tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Ormai è noto a tutto il pubblico affezionato al GF VIP 7 che tra i due VIP onicio un rapporto fatto di alti e bassi. Se da una parte Daniele cerca di negare il suo evidente interesse nei confronti di Oriana. Dall'altra, sempre l'extronista si lascia andare a dichiarazioni esplicite. Rapporto dunque che continua a far sperare i fan degli Oriene in una loro stabilità di coppia. E sembrerebbe essere proprio così adesso tra i due ragazzi. Subito dopo la puntata andata in onda ieri, infatti Oriana e Daniele si sono ritrovati in un lungo abbraccio e il veronese ne ha approfittato per mostrare alla sua venezuelana tutta la felicità di saperla come prima finalista del reality. La ragazza, visibilmente emozionata e intervenuta dicendo. Oriana si riferiva al momento in cui, dopo essere stata decretata finalista direttamente in studio, è rientrata all'interno della casa e ha dovuto mettere in scena un siparietto. Alfonso Signorini infatti aveva chiesto alla venezuelana di fingere che sia Antonella Fiordelisi sia Davide Donadei erano stati eliminati. Se i vipponi hanno avuto qualche dubbio, l'unico a capire subito che si trattava di uno scherzo è stato proprio Daniele. Poi ha anche aggiunto. Alla fine Oriana ha approfittato del momento di serenità per chiedere a Daniele di tornare a dormire insieme. Ma quest'ultimo ancora non sembra accontentarla. Ecco qualche video del tenero momento tra gli Oriene. Grazie. Grazie. Grazie.